Buon pomeriggio, eccoci di nuovo ancora qui da Casteldebole, l'allenamento del Bologna è terminato, Daniele Portanova è qui in versione non soltanto di un caposaldo di questa squadra che ha attraversato i flutti della tempesta Porcedde e ora la sua quota 40, ma perché? Questi punti sarebbero 43 in classifica, il 4 dicembre scorso mi sono documentato, tu dicesti vedrete, questa squadra farà almeno 42-43 punti e molti rivali saranno dietro, sei un profeta adesso fai le carte nello spogliatoio, che cosa succede? Avevi ragione? Sì, perché quando vivi lo spogliatoio, vivi la mentalità, questa squadra si è sempre tenata bene, è stata sempre un ottimo gruppo, i risultati sono venuti, anche un pizzico di fortuna e tutto quanto, però diciamo che la mia voglia e la voglia dei miei compagni si è vista ogni domenica dopo domenica e spero di farne adesso un po' più dei 43. Ecco, a cominciare da Brescia perché già lì sono punti importanti, poi la Brescia di Viviano, anche lì state preparando, questa sosta vi fa bene o non vi fa male? Abbiamo partite un po', non solo Brescia, abbiamo tante partite difficili, c'è il Parma, c'è il Bari, c'è il Cesena, noi Bologna se le giocherà fino alla fine tutte, portando rispetto agli avversari, però vogliamo continuare a sognare e chiudere in bellezza questa annata meravigliosa. Chiudere in bellezza cosa vuol dire? Anche pensare a qualcosa di più della salvezza? Dobbiamo pensare a continuare a giocare così da Bologna, poi non lo so, è un sogno, io ho sempre detto che l'Europa è un sogno, noi pensiamo a fare i punti, tanto se dici sempre Europa è Europa e non fai i punti è inutile parlare di Europa, noi dobbiamo pensare che ci sono otto partite, è difficile, anche se sulla carta possono sembrare facili, ma assolutamente no, però il Bologna cercherà di vincerle tutte e otto e poi vedremo. Ecco, anche per te, per altri motivi, questo Bologna è stata l'occasione del riscatto? L'occasione del riscatto? No, questo gruppo, questa città ha passato dei momenti difficili, soprattutto i tifosi che erano 4-5 anni, che non vivevano in un'annata così, quest'anno è la vittoria di tutti, di tutta Bologna, ma è così, lo pensiamo noi che siamo dentro, troppo facile prendere tutti i mari di noi, veramente i mari da distribuire con tutta Bologna, tutta la città. Un'ultima cosa che riguarda una frase che mi dicono, è una frase che tu dici sempre, però che incuriosisce e intimorisce, chi in questo Bologna sgarra lo attacco al muro, la dici sempre perché bisogna dirlo o l'hai detta perché a un certo punto era da fare così, era questo che occorreva al tuo Bologna? No, io, allora, sul giornale è uscita questa frase qua, ma io ho solamente detto che essendo un giocatore esperto, noi facciamo un gioco che purtroppo non gioia tennis, quindi ci vuole il massimo rispetto per chi si allena insieme a te, per il compagno, per il mister che allena, quindi quando c'è una mela marcia che quest'anno non c'è stato bisogno, noi più esperti ci facciamo sentire, poi attacca al muro è un po' dura come frase, non so così duro, qualche volta è successo ma non so proprio. Un'ultima cosa, adesso il futuro come lo vedi? Con Malesani, Longo, tutti insieme ancora qui a Bologna? Sicuramente dopo quest'anno forse per me riconfermerai tutto in blocco, però è anche vero che la realtà è questa, bisogna chiudere una parentesi e aprirne un'altra per la nuova stagione, poi una cosa importante è che hanno tutto il tempo per programmarla, che non si arriva all'ultimo, hanno almeno due mesi per lavorare sereno, questa è la cosa più importante. Grazie.